che poi vanno in giro a imporre la volontà decisa dai pochi un esempio avete visto Bug's Life, questo cartone animato? no questa è una cosa carina per chiudere allora, per chi non ha visto Bug's Life è una storia c'erano milioni di formiche che stanno a simbolizzare l'umanità tutte queste formiche vivono in un posto che si chiama l'isola delle formiche e avevano una vita carina e ognuno badava a se stesso a un certo punto c'è un gruppo di grilli che rappresentano in maniera simbolica questa rete di famiglie segrete quindi alla fine queste formiche finiscono per dover lavorare tutto l'anno per raccogliere cibo perché una volta all'anno arriva questo piccolo gruppo di grilli, viene lì e gli porta via tutto il raccolto e questa è l'umanità che funziona così è quello che hanno appena finito di farci le banche e siccome dentro la piramide ci sono altre piramide un po' come funzionano le bambole russe nelle matriosche anche se tutte le banche hanno nami diversi alla fine tutte le banche sono controllate dalla stessa rete quindi a un certo punto arrivano i grilli e c'è una formica piccola piccola che si alza ai piedi e dice questa cosa non è giusta non è giusta allora i grilli se ne vanno e l'anno dopo si riuniscono nei loro quartieri bocca è un albero, abitano lì questi grilli sono pieni di roba da mangiare, hanno tutto il cibo che serve e quindi teoricamente non avrebbero nessun bisogno di ritornare all'isola delle famiglie quell'anno lì e ritorniamo all'esperienza umana la rete delle famiglie, delle società segrete che gestiscono tutto il sistema finanziario delle banche, delle multinazionali, del media hanno tanti di quei soldi che non riuscirebbero neanche a spenderli in 200 vite quindi per quale diavolo di ragione continuano a fare quello che fanno, spingono, spingono, spingono e vampirizzano l'umanità perché gli piace il controllo questi grilli si mettono lì, si riuniscono, chiacchierano tra di loro e dicono ma non c'è tutto il bisogno di andare là in fondo, abbiamo abbastanza da mangiare ma il capo dei grilli ascolta questa conversazione dei suoi amici salta su e dice, cari signori prendetevi da bere perché siamo a casa e poi dice, no aspettate un momento ma c'è stata una formica che si è alzata ai piedi e poi l'altro dice, vabbè ma cosa se ne frega, in fondo è una formica sola e dice, erano pioni, erano pioni queste qua e lì c'era questa specie di condotto attraverso cui viaggiavano i... i semi che rubavano ed apre questo condotto e esce fuori un semino quindi il capo apre il tappo del tubo, prende questo semino lo tira addosso a uno dei grilli, il semo gli rimbalza sul petto e dice, ti ha fatto male? e dice, no, certo che non mi ha fatto niente allora a questo punto il capo dà una botta sul tubo, se ne rompe un pezzo, si stura e viene fuori questa montagna di semi che sommage questi grilli che erano lì e allora il capo dei grilli sale su questo cumulo di semi che si è rovesciato da tu e dice, state attenti perché se si alza in piedi una formica poi potrebbero alzarsi in piedi tutte le altre queste formiche ci superano il numero, sono cento a uno e il momento che lo scoprono ci fanno secchi bene, noi stiamo cominciando a renderci conto e quindi quello che dobbiamo fare è imparare a capire cosa sta succedendo agire tutti all'unisono, dimenticarci le separazioni che ci dividono e quando loro se ne accorgeranno questo li farà stare freschi e sta succedendo, sta succedendo oggi siamo arrivati alla fine della schiavitù dell'umanità, ci stiamo risvegliando e solo se noi rimaniamo addormentati pochi possono continuare a controllare i tanti questi loro giorni stanno rapidamente arrivando alla fine e noi siamo la generazione, soprattutto i più giovani, ma comunque tutti noi siamo la generazione che comincerà a vedere un'intera era di controllo dell'umanità arrivare al termine le sfide per i prossimi due o tre anni saranno enormi perché tutto questo non succederà facilmente più restiamo uniti, più siamo capaci di stare insieme, più lasciamo cadere tutto quello che ci separa e più rapidamente arriveremo alla fine di quest'epoca cosa dobbiamo fare? se facciamo questo, tutto il resto arriverà da solo perché se il controllo dell'umanità si basa sul principio da dividere e di impera se lo smetteremo di essere divisi potremmo smettere di essere controllati credo che bisogna restare grazie 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 grazie